Lui va a prendermi, potrai anche stare così, tranquillamente, c'è anch'io, ok proprio, da qua, boom, quello che abbiamo, ok, questo, ok, boom, qua posso andare, ok, da qua, vado a fare, spesso per una testata, infatti vai arrivare da qua, vuoi venire anche per una testata, bene, ciao, da qua, ok, vedi, ok, vedi, ok, vedete quello che sta succedendo, fare niente, inarcate la schiena, chiudete la goglia, ok, sulle braccia, perché devo essere io in vantaggio, no, ok, anche se, dopo che non funziona, ok, lo trovo qua, boom, 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 e vado fuori di qua, ok, 4, 5, vedete che poi, guardate la gamba dietro, non rimane lì, qua, guardate la gamba dietro, scarica, scarica, mi dà una mano, scarico così, sono più verticali, se le lascio qua, fanno una bella volta, ok, non posso prendere, vado già, e ora, allora, mi dà una mano, penso lì, vedete, scarica, guardate la gamba dietro, guardate la gamba dietro, ok, chiaro, vai, provate, Grazie. Grazie.